Wabalaba dab dab e bentornati su un nome ammazzo, è di nuovo martedì, soprannominato ormai Marvel D e sono con voi di nuovo a parlare di Spider-Man, il mio personaggio preferito dei fumetti. Con mio sommo dispiacere devo catalogare questa pellicola di cui vado a parlare nei retro movies perché ormai sono passati ben 19 anni dalla sua uscita, sto parlando di Spider-Man di Sam Raimi del 2002. Prima di cominciare se non lo avete ancora fatto iscrivetevi al mio canale, mettete un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, condividete il video con tutte le persone che si arrampicano sui muri e commentate qui sotto con quello che viene parso di questo film e qual è il vostro film dell'uomo ragno preferito sia della trilogia di Raimi sia in generale considerando tutte le altre trasposizioni. Vi ricordo sempre che di solito il martedì sul sito Viola gioco a Marvel Spider-Man e chiacchiero con voi appunto del personaggio e di come sta andando appunto la Marvel in generale, l'MCU eccetera eccetera. Questa sera, tanto per cambiare, voglio provare una cosa diversa. Farò comunque la live, sempre alla stessa ora, ma la voglio fare qua su YouTube. Quindi eventualmente qua in descrizione trovate il link diretto alla live e giocheremo come sempre, come facciamo sempre sul sito Viola, però lo facciamo su YouTube. Così vediamo un attimino se cambia qualcosa. Spider-Man del 2002, Spider-Man 1, il primo vero grande blockbuster dedicato a un supereroe di casa Marvel che non sia relegato a una produzione da B-movies. Anche se già da un paio d'anni era uscito il primo X-Men di Bryan Singer che è un capolavoro da quel punto di vista dei cinecomics riadattati all'era moderna non aveva fatto, per quanto avesse fatto successo, non era diventato così virale non era andato sulla bocca di tutti come per il personaggio di Spider-Man perché il personaggio di Spider-Man stesso è comunque universalmente più famoso rispetto anche agli X-Men perché mentre gli X-Men avevano raggiunto una notevole popolarità grazie alla serie animata degli anni 90 di cui anche Spider-Man ne aveva una Spider-Man stesso aveva avuto, oltre alla serie negli anni 90, aveva avuto una serie negli anni 70 un'altra serie ancora, aveva il telefilm giapponese Spider-Man era in tutte le edicole anche in Italia quindi la sua popolarità era già molto elevata prima che diventasse un film a livello di popolarità Spider-Man era popolare quanto Batman o quanto Superman per la DC Comics se voi fate vedere una fotografia di Spider-Man anche alla vecchietta di 90 anni anche alla vostra nonnina può riconoscere Spider-Man lo chiamerà Uomo Ragno perché fino ad allora si chiamava Uomo Ragno ma lo riconoscerà a differenza di un Lanterna Verde a differenza di un Black Lighting piuttosto che di un Aquaman ma Superman, Batman e Spider-Man sono iconici e vanno ben oltre il mondo nerd Spider-Man vuole essere da subito un film iconico lo vediamo già nel modo in cui lo hanno girato vuole essere quello che è stato Superman il Superman di Richard Donner, quello del 1978 vuole essere quello che è stato quel Superman per il mondo Marvel tant'è che anche nel modo in cui è stato girato e in una citazione in particolare cita proprio quel Superman del 78 ovvero il fatto che per la prima parte del film si vede molto molto bene molto intensamente la genesi del personaggio cosa che per esempio nel Batman di Barton non si vedeva e anche nell'iconica scena di Superman quando si strappa la camicia e sotto c'è la fantastica S del suo costume qua viene riproposta da Sam Raimi in una scena in cui Peter Parker fa la stessa cosa cosa che nei fumetti non fa ma è un chiaro omaggio a quel film, a quel film del 78 per, ma lo so, anche per buona fortuna, per buon auspicio perché voleva che questo Spider-Man fosse iconico come quel Superman ma la genesi di questo film è stata lunghissima, lunghissima, lunghissima se voi anche solo andate a sfogliare un po' su Google come è nato questo Spider-Man c'era tutto un lavoro dietro che nasce dagli anni Ottanta con delle idee strampalatissime che poi fortunatamente sono state scartate per poi passare nelle mani di James Cameron regista di Avatar, regista di Titanic che aveva invece un'idea un po' più simile a quella che abbiamo poi visto nel film di una genesi standard, una genesi che non stravolga l'origine fumettistica del personaggio un film dove voleva come protagonista niente po' di meno che Leonardo DiCaprio a interpretare Peter Parker molti di voi che magari si informano dovrebbero anche sapere che Michael Jackson stesso aveva fatto di tutto per avere i diritti cinematografici di Spider-Man per poter girare un film dove lui stesso era Peter Parker quindi avremmo potuto avere Michael Jackson come Peter Parker avremmo potuto avere Leonardo DiCaprio come Peter Parker si era pensato anche a Tom Cruise come Peter Parker poi, come si sa, questi grossi progetti passano di mano in mano di produzione in produzione le major falliscono, vengono assorbite da altre major e la Sony acquista i diritti cinematografici di Spider-Man e affida il progetto a Sam Raimi o Sam Raimi o Raimi, non lo so Sam Raimi fino ad ora era stato famoso per i suoi B-movie o B-movie voluti, volutamente girati in quel modo o per scarsità di budget su La Casa, La Casa 2 e L'Armata delle Tenebre Sam Raimi ha una regia davvero molto molto marcata ha una regia che appunto si presta a quel tipo di genere è il genere horror dei B-movie dove ci sono dei close-up improvvisi quindi dei primopiani zoomati all'improvviso che fanno risaltare l'effetto spavento in un film horror ma che francamente in questo film di Spider-Man a me pesano parecchio è una regia talmente autoriale che secondo me si sposa poco col genere supereroistico che è quello che fa in modo che questo film sembra invecchiato male in realtà non è invecchiato male già allora era strano vedere certe inquadrature certe scene in un film di supereroi però era la prima volta che assaporavamo Spider-Man sul grande schermo quindi è per questo che per molti questo film è intoccabile pensate questo film ha incassato 821 milioni di dollari è stato il terzo film più visto del 2002 dopo Harry Potter e la Camera dei Segreti e Il Signore degli Anelli e Le Due Torri e oltre alle scene iconiche che vogliono citare il Superman di Donner si sono create anche delle scene nuove diciamo Sam Raimi è stato capace di creare delle inquadrature delle scene che poi sono diventate iconiche anche per i film a venire sono diventate anche dei meme alcune di queste scene il monologo iniziale chi sono sicuri di volerlo sapere la storia della mia vita non è per i deboli di cuori il monologo fatto dal supereroe stesso che parla delle sue geste della genesi degli suoi poteri è nato da questo film e poi è stato utilizzato anche in altri film su tutti mi viene in mente Kick-Ass o la parodia Super Hero Movie per non parlare del bacio tra Spider-Man e Mary Jane il bacio a testa in giù che è diventato un simbolo di quest'era di questi nuovi film di supereroi lo hanno citato ovunque se seguite per esempio The Oh Sick delle film che io non ho mai seguito però persino a me è arrivata questa citazione anche lì hanno citato questo bacio lo hanno citato ovunque lo hanno parodiato ovunque è diventato davvero è entrato nell'immaginario collettivo della cultura pop se conoscete la storia di Spider-Man noterete che questo film non era stato concepito per essere una trilogia è stato concepito per essere un riassunto di tutto ciò che è Spider-Man un concentrato di epicità di quella che è la sua storia perché vediamo la sua genesi vediamo il suo arcinemico così come è successo anche nel primo Batman di Barton dove hanno subito sfornato il Joker o nel Superman di Dunner dove hanno subito sfornato Luthor ma si vede che non hanno pensato a questo film come trilogia perché hanno citato una delle saghe più epiche di Spider-Man ovvero la morte di Gwen Stacy l'hanno citata nella scena finale quando Green Goblin rapisce Mary Jane e sì Mary Jane perché Gwen Stacy in questo film ancora non c'è e Mary Jane è la bella di turno diciamo la innamorata del protagonista che sarà protagonista lei stessa per tutta la trilogia di Raimi dico hanno solo citato la morte di Gwen Stacy perché Green Goblin rapisce Mary Jane e la porta in cima a un ponte o meglio la lancia anche giù ma Peter riesce a salvarla quindi ovviamente Mary Jane non muore perché non muore nei fumetti Mary Jane è una sorte che è capitata solo a Gwen Stacy però è chiaro che giocandosi questa scena altrettanto iconica non la potevano più usare nei sequel quindi è chiaro che non avevano pensato di trattarla nei sequel ma partiamo un po' dall'inizio se guardate questi film noterete subito che c'è un intro di titoli di coda fatta in CGI lunghissima e voi direte cavoli ma negli anni 2000 davvero erano così i titoli di coda? no, no, erano sceni anche nel 2002 cioè i titoli di coda così lunghi che non introducono il film erano una mattonata nei coglioni anche nel 2002 e in ogni film di Raimi ci sono questi titoli di coda soprattutto poi nel primo che hanno usato la CGI del 2002 sono davvero brutti da vedere però è una firma anche quella di Raimi così come quando Peter Parker viene morso dal ragno e ha questa febbre che gli fa arrivare i poteri e vediamo i filamenti di DNA con i ragni che camminano sopra e delle immagini di teschi che appaiono all'improvviso quello è puro Raimi che cita se stesso che cita gli scheletri della casa o dell'armata delle tenebre come dicevo prima la protagonista femminile è Mary Jane Watson interpretata da Kristen Dunst e devo dire che Kristen Dunst in questo film rappresenta la miglior Mary Jane di tutta la trilogia non mi riferisco all'MJ dell'MCU sto proprio dicendo che questa MJ di Spider-Man 1 è la migliore tra i tre Spider-Man come look, come carattere è quella resa meglio dovete tener conto che siamo sempre negli anni 2000 dove ancora si utilizzavano persone oltre 26 anni, quasi 30 anni per interpretare degli adolescenti quindi per esempio abbiamo Joe Manganiello che interpreta Flash Thompson abbiamo lo stesso Tobey Maguire se non sbaglio aveva 26 anni e interpretava un Peter Parker 19enne c'è anche da dire che comunque all'epoca e ve lo dico perché io sono di quell'epoca i sedicenni sembravano un po' più grandi rispetto adesso che sembrano ancora passatemi il termine dei bambini molto alti cioè sono molto più puliti in faccia quindi mentre negli anni 2000 avevano già dei lineamenti un po' più bruttarelli forse mangiavamo molta più merda nel 2000 quindi invecchiavamo prima come dicevo prima il film si concentra molto sulla genesi del personaggio un origin story perfetta lineare quella che abbiamo visto anche nei fumetti un origin story che non verrà più trattata così bene nelle future incarnazioni e un'altra cosa che non verrà più trattata così bene nelle future incarnazioni è l'epicità il cammino dell'eroe qua la figura dell'eroe è esaltata al massimo così come il suo sacrificio quello che fa quello che rinuncia per essere un eroe il rapporto che ha lui con il suo sacrificio il rapporto che ha lui con l'amore l'amore per MJ l'amore per la sua famiglia c'è un rispetto e una profondità verso il personaggio che non verranno più gestiti in questo modo nelle future incarnazioni ed è forse per questo che questo film è quello che resta più a cuore alle persone che lo hanno amato nel 2002 perché sono le persone che vengono dai fumetti ciò nonostante non sto dicendo che questo sia lo Spider-Man più attinente ai fumetti in assoluto anzi una cosa che mi è piaciuta molto poco di questo Spider-Man che appunto viene migliorata in Spider-Man 2 che è considerato cinematograficamente il migliore della trilogia è la scarsa profondità del villain il villain è davvero un villain macchiettistico un villain da cartone animato vediamo questo goblin che sghignazza ride e ce l'ha con Spider-Man ma non ha dei veri obiettivi quando goblin viene generato dal siero che Norman Osborn assume per non far fallire la sua azienda il suo primo pensiero è quello di vendicarsi dei suoi azionisti dei suoi collaboratori di azienda che lo hanno tagliato fuori uccidendoli del tutto ma a parte questa cosa che viene risolta subito poi goblin non esterna altri obiettivi dice solo che ha un sacco di potere e vuole eliminare tutti quelli che lo staccano ma non parla di un obiettivo mentre nei fumetti quantomeno si mostra che oltre a comandare New York dal punto di vista dell'industria vuole infilarsi anche nel sottobosco della criminalità vuole diventare comunque un piccolo boss del crimine cosa che non viene assolutamente vista in questo film e quindi questo goblin a parte la vendetta iniziale si limita a ossessionarsi da Spider-Man solo perché lo ha combattuto nel loro primo incontro e poi vuole solo che si alleino per comandare New York insieme ma non è assolutamente chiaro cosa voglia fare cioè nonostante comunque è molto fedele al fumetto anche qua Norman Osborn scopre l'identità di Peter Parker così come accade nei fumetti se la prende con i suoi cari nel fumetto se l'è presa con Gwen Stacy qua se l'è presa con Mary Jane e con Zia May piccola postilla su Zia May Zia May è interpretata da Rosemary Harris è la Zia May più adatta tra tutte quelle mostrate al cinema poi mano a mano ringiovanisce sempre di più non ce n'è motivo la Zia May è una Zia anziana è una Zia cardiopatica l'importanza di avere un membro della famiglia così fragile, così debole è molto significativa per Spider-Man perché lui oltre al suo dovere di supereroe deve anche pensare a mantenere questa persona deve pensare a non spaventarla non facendosi male e non spaventarla con la sua identità di Spider-Man di cui Zia May è intimorita la dualità di questo rapporto purtroppo non viene più vista nelle incarnazioni successive di Zia May proprio perché Zia May è poi rappresentata come una donna forte un'altra scena iconica e fantastica di questo film è il discorso che Peter fa a Mary Jane sulle sensazioni che Mary Jane dà a Peter Parker quindi sul fatto che lui è innamorato di Mary Jane questo discorso è davvero bello viene poi citato anche questo da Big Man Theory da Sheldon se non sbaglio forse non è entrato nella storia del cinema come la scena del bacio perché è meno iconica e più parlata ma è altrettanto profonda un altro personaggio ben riuscito è Harry Osborn interpretato da James Franco quando ancora non era James Franco tra l'altro James Franco in questo film aveva fatto il provino per essere lui Peter Parker e Spider-Man però Sam Raimi lo ha scartato preferendo Tobey Maguire ora io una mia teoria ce l'ho guardate la faccia di Sam Raimi guardate la faccia di Tobey Maguire guardate la faccia di James Franco guardate la faccia di Peter Parker nei fumetti James Franco sarebbe stato perfetto per essere il vero Spider-Man però molto probabilmente Sam Raimi ha visto in Tobey Maguire una versione più giovane di se stesso e ha, non so, ha voluto fare uno Spider-Man interpretato da qualcuno che gli assomigliasse secondo me Harry Osborn è perfetto soprattutto in questo film perché nel prossimo prende un po' le redini dell'azienda del padre quindi lo vediamo molto più diciamo, sembra più adulto rispetto a Peter perché fa, si occupa di un'azienda ma nonostante appunto venga interpretato da un attore quasi trentenne in realtà dovrebbe avere all'incirca 21 anni quindi è un po' inverosimile questa cosa un'altra presenza che ho adorato in questi film soprattutto alla luce del fatto che nelle incarnazioni successive non ne abbiamo assolutamente visto o ne abbiamo visto pochissimo è la presenza massiccia del Daily Bugle e di J. Jonah Jameson il Daily Bugle è una fetta importante dei fumetti di Spider-Man e qui la vediamo sviluppata al meglio vediamo J.K. Simmons che interpreta appunto J. Jonah Jameson magistralmente vediamo Robbie Roberson vediamo Betty Brandt che è la segretaria di J. Jonah Jameson non è una compagna di classe di Peter come nel Marvel Cinematic Universe non parliamo neanche di Amazing che manco c'è, manco è presente mi piace vedere che sia più grande di Peter come dovrebbe essere nei fumetti mi è dispiaciuto davvero tanto quando nel primo Amazing Spider-Man non ho visto la presenza del Daily Bugle nel secondo hanno semplicemente mostrato Peter che manda un'email a Jameson con le sue foto e nel terzo, nella terza incarnazione quella del Marvel Cinematic Universe anche lì nel primo film non si vede nulla nel secondo film si vede solo nel finale mi è piaciuto però davvero troppo troppo poco era troppo anche sperare che questo Peter Parker questo Spider-Man facesse le battute mentre combatteva esattamente come succedeva nel fumetto ci ho sperato un pochino nella scena del wrestling dove appunto a Sega Ossa fa una battutaccia che quella sì che è invecchiata male ma a parte questa battuta all'inizio e qualche altra battuta orrenda fatta con Goblin poi non c'è una vera petulanza da parte di Spider-Man è sempre molto preoccupato e silenzioso ed è un vero peccato l'ho ritrovato meglio da questo punto di vista in Amazing per esempio dove parla parecchio di più in questo film e soprattutto in quelli successivi dove magari ne parleremo meglio nelle prossime settimane tutto ciò che fa Peter Parker è Mary Jane centrico tutto quello che lui vuole fare è finalizzato a bombarsi o portarsi all'altare se volete essere più romantici Mary Jane Watson mentre nel fumetto quasi lui fugge dal desiderio di stare con la ragazza che ama Gwen e poi Mary Jane proprio per occuparsi prima dei suoi doveri di Spider-Man qua vediamo anche all'inizio quando lui vuole fare soldi con i suoi poteri lo vuole fare per fare colpo su MJ mentre nel fumetto lui vuole fare soldi perché la sua famiglia e i suoi zii sono poveri e vuole portare comunque dei soldi a casa stessa motivazione o meglio stesso scopo quello di fare soldi ma per una motivazione ancora più bieca nel film ancora più egoista ma passiamo proprio a tutte le differenze che ci sono tra lo Spider-Man dei fumetti e lo Spider-Man di Sam Raimi come dicevo questo è un film che concentra tutta la storia editoriale di Spider-Man in un unico film quindi Peter Parker viene punto dal ragno al liceo ma non all'inizio del liceo come nei fumetti se non sbaglio aveva 16 anni nei fumetti ma quando si sta diplomando quindi ne ha 19 questo perché? perché Peter Parker già dal numero 50 in poi se non prima già frequentava l'università quindi i suoi anni di liceo a livello editoriale non sono stati molti in questo modo nel film noi vediamo un Peter Parker liceale che viene punto dal ragno ma poi vediamo parecchio Peter Parker universitario nei fumetti Peter conosce Mary Jane e Harry Osborn al college mentre nel film pare che sia compagno di classe di Harry e di Mary Jane già dalle elementari questo lo vediamo anche nella versione Ultimate di Spider-Man che in quegli anni stava proprio uscendo per rinnovare un po' il personaggio tre nei fumetti Peter Parker va a una fiera della scienza sulle radiazioni da solo e non in gita scolastica così come accade nel film e nella serie Ultimate Spider-Man il ragno è radioattivo nella serie originale e non geneticamente modificato così come accade nel film e nella serie Ultimate Spider-Man nei fumetti Norman Osborn è un viscido uomo d'affari senza scrupoli anche prima di prendere il siero di Goblin ha dei loschi piani nella malavita e Spider-Man gli sta mettendo i bastoni tra le ruote gli manda gli esecutori gli manda un sacco di scagnozzi che vengono puntualmente sconfitti da Spider-Man quando poi capisce che non c'è altro che può fare assume l'identità di Goblin per ingannarlo e sconfiggerlo mentre nel film c'è questo strano rapporto tra Norman Osborn e Green Goblin un po' la Dottor Jekyll e Mr. Hyde ma Norman Osborn prima di diventare Goblin è semplicemente un padre un po' assente un uomo d'affari ma non è cattivo Mary Jane vive accanto a Peter Parker dall'università in poi insieme a sua zia Anna mentre nel film vive con i suoi genitori di cui ha anche un padre violento e alcolizzato accanto a Peter Parker sin dall'elementare le ragnatele di Peter Parker le ragnatele dell'uomo ragno le ragnatele di Spider-Man sono sempre state prodotte con delle sostanze chimiche le stesse che utilizza per sviluppare le fotografie da Peter Parker stesso e messe nel suo personale lancia ragnatele progettato da lui stesso mentre in questo film pensavano che questa cosa sarebbe stata troppo geniale per un adolescente troppo inverosimile e allora hanno pensato di fargli delle ragnatele organiche quello sì che è verosimile in un film dove un uomo si arrampica sui muri preoccupiamoci di questa cosa ma che c***o Peter nei fumetti non è un secchione e basta Peter è un genio è secondo solo a menti come Reed Richards e Hank McCoy è più che un semplice secchione cosa che invece nel film non è nel film è solo bravo a scuola e quindi sì è ovvio che è improbabile che costruisca i lanciaragnatele perché non è un genio è semplicemente un bravo studente cosa che si noterà molto di più in Spider-Man 2 infine la morte dello zio Ben nei fumetti accade a casa non in auto non per strada lo dico perché anche nella versione successiva Amazing Spider-Man succede sempre per strada ma nei fumetti accade a casa è sempre opera del ladro che Peter ha lasciato scappare ma quel ladro casualmente va a casa di Peter che poi non è stato casualmente ma poi quello si vedrà più avanti è un fumetto che fa un pochino di retcon negli anni 70 se non sbaglio bene io vi ringrazio per avermi seguito fino a qui è stato un video molto lungo ma sono felice di averne parlato con voi settimana prossima parleremo di Spider-Man 2 poi di Spider-Man 3 e poi faremo un bel riassuntone per vedere effettivamente qual è l'incarnazione di Spider-Man che più è fedele ai fumetti non so neanche io cosa uscirà fuori magari uscirà fuori quello che a me piace scopriamolo insieme con i fatti va bene io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video grazie a tutti grazie a tutti